A Buonabitacolo il sindaco Giancarlo Guercio ha pubblicato ieri due ordinanze che prevedono diverse restrizioni al fine di contrastare la diffusione del virus. Due provvedimenti necessari a circoscrivere il focolaio emerso nella casa di riposo Sacro Cuore, dove ieri si sono registrati altri due positivi tra ospiti e contatti esterni. La prima ordinanza, la numero 18, è relativa proprio alle problematiche derivanti dai numerosi casi positivi all'interno della RSA che è stata quindi messa in quarantena, mentre la seconda, la numero 19, riguarda tutta la cittadinanza. Tra i provvedimenti più importanti disposti da Guercio c'è la chiusura di tutte le attività alle ore 18 con riapertura alle ore 7, la sospensione di tutte le riunioni e gli incontri onde evitare assembramenti, di tutte le funzioni religiose e la chiusura del cimitero, l'obbligo di entrare negli esercizi commerciali uno per volta e solo provvisti di mascherina, il divieto di uscire dal territorio comunale se non per motivi strettamente importanti come lavoro e salute, ma con l'obbligo di rientro presso il proprio domicilio. Intanto è risultato negativo il tampone nasofaringeo al sindaco di Sanza Vittorio Esposito che in qualità di medico di base nei giorni scorsi aveva effettuato alcune visite domiciliari presso la casalbergo di Buonabitacolo. In via precauzionale e consenso di responsabilità Esposito si era sottoposto a tampone che è risultato negativo e da domani fa sapere ritorna normalmente alle proprie attività professionali e istituzionali.